parliamo adesso ale di giocatori che sono diventati grandi grazie al grande lavoro grazie al duro lavoro grazie a la capacità di prendere delle delle delusioni delle botte rialzarsi e l'hanno fatto soprattutto attraverso i gol parliamo insomma di due giocatori inglesi parliamo di tre giocatori inglesi però due hanno qualcosa in comune sono arrivati in alto grazie gol sono arrivati in alto grazie al brentford e chissà che possano rappresentare il futuro dell'inghilterra uno di questi almeno rappresenta il presente visto che è convocato da scala da southgate per i due impegni dell'inghilterra giovedì contro l'italia al maradona e poi l'inghilterra sfiderà a wemblay e qua vediamo caro federico come mi insegni giustamente quelli che sono gli impegni dell'italia nelle qualificazioni all'europeo giocheremo contro l'inghilterra il 23 di marzo quindi domani alle 20 45 poi avremo la trasferta a malta dopo domani dopo domani pardon si sono sono un po sfasato poi giocheremo contro malta domenica sera e e occhio perché l'allenatore michele marcolini che è una vecchia conoscenza del nostro calcio che ha allenato anche l'albinolef è stato ospite anche di calciomercato.com su twitch e poi avremo avremo partite importanti perché ci sarà la spagna e nations league ci sarà la macedonia e l'ucraina ma questi va molto avanti quindi concentriamoci su quello che è il presente concentriamoci su quella che è l'inghilterra qui vediamo i convocati invece chiaramente una squadra anche diversa da quello che abbiamo affrontato all'europeo diversa soprattutto in attacco no perché nome di cui stavi giustamente parlando tu è quello discusso di Ivan Toni non c'è Rashford bisogna dire che si è fatto male quindi non ha risposto alla convocazione queste ovviamente sono le prime convocazioni Ivan Toni che è un calciatore di cui abbiamo parlato tanto non sempre in ottica sportiva e calcistica perché ha avuto tanti problemi con la giustizia tant'è che non è stato chiamato all'europeo al mondiale anche per questa situazione soprattutto per questa situazione lo ha ribadito anche il ct dei tre leoni insomma non era in quel momento facile chiamarlo perché perché Ivan Toni oltre ad avere realizzato in questa stagione già la bellezza di 17 gol in 26 partite quindi solo due giocatori sono davanti a lui in questo momento e stiamo parlando di Holland e di Harry Kane non certo gli ultimi arrivati quindi terzo nella classifica dei cannonieri di Premier League aveva la passione e il vizio perché si deve chiamare così in questo caso delle scommesse 262 scommesse Federico tra il 2017 e il 2019 da calciatore non si può non si può assolutamente c'è stata un'indagine da parte della federazione inglese che comunque ancora non si è conclusa definitivamente il giocatore rischia ancora una squalifica e il giocatore che è stato penalizzato duramente da questo tipo di comportamento anche perché la piazza lo ha scaricato come difficilmente avviene in Italia in Italia se un giocatore fa parte della propria squadra si tende a difenderlo anche forse quando oltre quello che sia lecito il Brentford invece ha scaricato Tony nella passata annata perché ha detto ma come noi abbiamo un attaccante che ci deve rappresentare nel paese che che non ha un comportamento consono quello che dovrebbe essere il suo ruolo tant'è che il giocatore spesso era stato anche contestato allo stadio del Brentford nonostante poi sia il giocatore migliore almeno dal punto di vista offensivo proprio del Brentford e sarà protagonista con con l'Italia vedremo se titolare io penso più dalla panchina chiaramente in questo momento l'aspetto del 262 accuse di scommesse è pendente bisognerà capire poi quale sarà la decisione perché perché stato che ha detto se è a disposizione del club perché non devo chiamarlo il nazionale cioè se il club lo fa giocare e Tony fa gol con il Brentford per quale motivo io non devo chiamarlo con la nazionale può essere assolutamente una risorsa assolutamente sì e lo sarà un solo rigore sbagliato in carriera e questo è qualcosa di caratteristico e pittoresco perché è un giocatore che dal dischiato è assolutamente infallibile è un giocatore che è stato lanciato da 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 frank nel nel Brentford allenatore danese che veramente sta facendo le fortune della squadra che davvero è una delle migliori anche del 2023 e chiudiamo con una un qualcosa di divertente spesso i tifosi quando va a giocare in trasferta gli cantano tony dacci le quote questo è un po un coro che con cui lo accolgono che pittoresco succede anche l'italia con alcuni con i giocatori tra l'altro tony che ha avuto il record di gol segnati in championship fino insomma all'avvento di dell'uragano mitrovic che adesso non ricordo quanti ha segnati più di 40 allo scorso anno mi sembra che tony si fermò 32 e lui mitrovic invece l'ha superato ma naturalmente mitrovic è un giocatore di un'altra categoria anche quando si tratta di mettere le mani addosso all'arbitro il Brentford che ha scelto di puntare sui giocatori esattamente come il mitinland giocatori legati insomma anche una serie di algoritmi di qualità un modo di non di qualità di algoritmi di capire se un giocatore funziona in determinato contesto secondo dei parametri chiari stile money ball no il film che vi invito a vedere se non avete visto vorrebbe fare anche un po il milan e come fa probabilmente anche il tolosa insomma sono quelle squadre che basano molto la propria ricerca scouting anche su quelli che sono i dati statistici spesso funziona non sempre perché il discorso ma che facciamo prima quando parlavamo di reteghi non che reteghi sia stato scelto secondo dei parametri statistici però magari quel giocatore che in un'altra realtà non funziona che invece in un contesto diverso può sentirsi esaltato le qualità possono fu le sue qualità possono funzionare e possono fare la differenza l'altro giocatore del Brentford insomma chi Tony ha sostituito è Watkins Watkins che è il primo attaccante della Stonevilla a realizzare più di dieci gol o almeno dieci gol nel corso di tre stagioni differenti dopo Benteke che poi andò a Liverpool perché ne ha fatte nove nel 2022-23 questa stagione chiaramente non è ancora finito il campionato nove sono diventati dieci perché appunto ha marcato insomma quella che è la decina 11 nel 2021-2022 e 14 nel 2020-2021 quindi tre stagioni davvero positive per Watkins che arriva dal Brentford ed è il predecessore di Tony ed è un giocatore che è esploso a Brentford con lui non è riuscito a centrare la promozione ma è stato perso finale col Fulham esatto ma è stato davvero il calciatore forse più importante almeno fino a questo momento della storia del club perché insomma 28 milioni che ricevette proprio dalla Stonevilla un acquisto che fu importantissimo proprio per volere di Dean Smith che era stato l'allenatore che lo aveva lanciato a Brentford prima di Franche e che lo aveva ritrovato alla Stonevilla ed è un calciatore particolare perché lui non svolgeva neanche il ruolo di prima punta era un centrocampista offensivo poi Smith ha questa intuizione di spostarlo da attaccante direi che davvero ha centrato il punto perché è un giocatore che davvero segna tantissimo una tripletta al Liverpool che tu sicuramente ricorderai nella passata annata una sconfitta terribile per il Liverpool sì esatto un giocatore che aveva segnato come Mitrovic nella stagione di Championship con Ben Ramà e Beaumont quindi che sono due davvero giocatori che poi hanno fatto molto bene uno dei due è andato al West Ham il primo il secondo è rimasto al Brentford ma sono protagonisti della Premier League e ha vinto il premio di miglior giocatore di miglior giovane insomma del 2017 come giocatori del calibro di Bale di Delph di Zaha di Dele Alli quindi si iscrive un po' nel solco davvero di colore che poi hanno fatto la storia della Premier League ed è anche impegnato nel sociale ha sponsorizzato comunque aiuta in maniera importante l'associazione che lotta contro il cancro e questo ci fa sempre piacere raccontarlo perché sappiamo che i giocatori spesso hanno anche degli aspetti dei risvolti soprattutto in Premier League che non vengono che non vengono considerati e Watkins oltre a fare gol in campo spesso lo fa anche fuori eh sì è un giocatore sicuramente da seguire che ha già fatto parte del giro dei convocati di Sarkade non c'è questa volta prima di parlare dell'ultimo giocatore sottovalutato perché noi abbiamo scelto Tony Watkins e adesso un altro giocatore in questo momento sottovalutato sottovalutati allora Van de Boomer è un giocatore interessante ci iscrivete su Twitch sì è un giocatore del quale vogliamo parlare di verso tempo anche se non è più giovanissimo però un ragazzo sicuramente da seguire tra l'altro per per gol fatti o per partecipazione ai gol tra i primi in Europa ci chiedono se il compagno può fare differenza in Italia francamente io lo conosco poco ho solo visto qualche video ma non l'ho mai visto ad altissimi livelli dovremmo chiedere al nostro Michele Antonelli che l'ho anche intervistato io penso che sia presto insomma cioè presto può essere anche tardi non credo insomma per rispondere alla domanda poi ci chiedete per quale motivo la Red Bull non investe nel calcio italiano questo è un tema molto importante e soprattutto non si può ridurre la risposta in un paio di minuti siccome siamo quasi in chiusura faremo un approfondimento sì perché ci chiedete quando torniamo live noi siamo live tutti martedì dalle 13 alle 14 fino al termine della stagione poi prenderemo anche noi una lunga pausa fino a settembre però tutti i martedì anche in queste settimane che non si gioca la Serie A non si gioca nei campionati noi ci siamo quindi questo martedì sta finendo la puntata e martedì prossimo dalle 13 alle 14 magari cambia la coppia perché c'è anche l'ottimo Andrea Di Staso che ruota con noi ma non possiamo andarcene perché tu ci devi parlare ancora di un giocatore io voglio parlarvi di un giocatore che a me piace tantissimo un giocatore che finalmente si è preso la scena ovvero Marcus Edwards un attaccante classe 1998 più che un attaccante è un giocatore esterno gioca l'arco a destra in un tridente lui che nasce in realtà come 10 perché da 10 cresce nell'academy del Tottenham lui è un classe 1998 fa il suo esordio con il Tottenham giovanissimo perché nel settembre 2016 gioca in Carabao Cup con Pochettino allenatore contro il Gillingham e già qualche mese prima era stato comunque aggregato alla tournée estiva degli Spurs nel 2016 lui che è un classe 1998 è un ragazzo che ha le nel settore giovanile del Tottenham che è un settore che poi giovanile che poi ha portato in prima squadra diversi giocatori non tutti hanno fatto una grande carriera però di certo tutti li ricordiamo penso per esempio a Townsend penso a Carroll penso a Bentaleb penso a Rice penso a Mason ovviamente a Rick Kane è un giocatore che piaceva così tanto che la stampa inglese lo definisce un giocatore che regala wow moments quel giocatore che insomma ti prende ti prende l'occhio per molti era considerato il nuovo Messi il Messi inglese perché insomma è di piede sinistro è basso non ha una grande struttura fisica anche se il suo idolo è sempre stato Neymar il problema è che il Tottenham lo boccia per quale motivo perché ha problemi comportamentali caratteriali fa fatica a relazionarsi sia con l'allenatore sia con i compagni di squadra per questo lo manda in prestito prima al Norwich anche lì al Norwich dicevano lui è molto meglio di Madison è un giocatore molto più bello da vedere e potenzialmente più forte di Madison eppure al Norwich non ha fatto bene anche per colpa di un problema la schiena è andato allora in prestito all'Excelsior di Rotterdam e quando torna al Tottenham fondamentalmente lo scarica ha la possibilità di venire in Italia perché lo vuole l'Udinese lo vuole il Boro lo vuole il Nottingham Forest lo vuole il Brentford lui dice no visto che il suo amico Sancho le ha consigliato di andare fuori dall'Inghilterra giocare fuori dall'Inghilterra lui ha detto no al Manchester City Sancho per andare a Borussia Dortmund lui c'è le sceglie di andare al Vittore Ghimaraes in Portogallo segna 20 gol in 96 partite in poco più di di un anno poi lo prende lo Sport Lisbona gennaio 2022 allo Sport Lisbona ha segnato 6 gol è un giocatore che sfiderà la Juve io credo che sia un giocatore in questo momento torniamo al discorso prima un mezzo giocatore però un giocatore che manca davvero poco per fare la differenza un giocatore è bravo nell'uno contro uno bravo a spostare il pallone a calciare dovrebbe fare più gol si è preso una piccola rivincita perché comunque lo Sport Lisbona ha eliminato l'Arsenal sì perché è cresciuto nel Tottenham l'Arsenal è rivale numero uno lo Sport Lisbona sfiderà la Juventus io credo che sia necessario fare molta molta attenzione perché tra i tanti talenti portoghisi che lo Sport Lisbona ha c'è anche questo ragazzo qua Marcus Edwards che potrebbe fare presso il grande salto il suo sogno è giocare ora al Madrid o al Barcellona non so se sia un giocatore del Real Madrid o Barcellona però credo che sia un giocatore della grande squadra io